Dal 2018 nel mercato dell'energia verrà abolito il sistema di maggior tutela per luce e gas. Una buona notizia? Secondo alcuni sì, ma per molti osservatori il prezzo delle bollette aumenterà, danneggiando gli utenti. La risposta di Kodakons Consumer Green Network è il gruppo di acquisto. Si tratta di un'iniziativa diffusa in tutta Europa che si basa su un meccanismo molto semplice. Più sono i consumatori che aderiscono al gruppo, più forte è il loro potere contrattuale. Date le maggiori quantità richieste, infatti, possono acquistare l'energia dal produttore a costi inferiori. Chi sceglie di partecipare al gruppo d'acquisto Sostenibilità per l'energia accede a un'offerta innovativa e sicura, basata su tre principi di carattere etico. Trasparenza, convenienza, protezione. L'offerta è trasparente perché è immediatamente confrontabile con la propria fornitura, grazie a un semplice comparatore. È conveniente perché consente di risparmiare fino a oltre il 20% rispetto al regime di maggior tutela. Garantisce infine piena protezione agli aderenti perché qualsiasi criticità sarà gestita da Kodakons e Consumer Italia attraverso la procedura di conciliazione, che prevede la soluzione della controversia in 15 giorni. Mai come in questo caso, l'unione fa la forza. E allora, cosa aspetti a partecipare? Trovi tutte le informazioni su questa iniziativa all'indirizzo www.kodakons.it